Musica Brotigliano Daniella Forza che si è evitata basta Baccio Treme e basta il giudice Oh guarda sulla ribatta Guarda sulla ribatta ultimi Baccio Baccio Ehi caldo Questa è con me E Nambi anche a queste, Nandi. Allora, ti faccio classificata per le stelle di Daniele. Secondo, classificato il rock-y-look voloso di Gianni Maruardo, che ha porto la camicia. Guardate nei danti, il secondo classificato Gianni Maruardo. Per una volta, a promettere di dirlo, ogni tanto. E' l'unico, la categoria open, la principiosa di oggi mattini. Ma queste, no ho capito! La ricercita ira bene! Mi raccomiamo la casa. Questa è stata via. Le ritiro io il premio! Kr gooey Ersen, a pilingare attento in casa. Questa la faccio io! Basta la faccio io, anche se il padre è geloso non me ne frega niente. Aspetta, mi mando il bacio perché sennò me ne fugge. Circo di più con la Corsa. Brava Laura, Corsa è costituita. E' finita la benzina, lui è Zemele Pelle. Brava Laura, Circo di più con la Corsa. Perciò è costituita, attimi Roberto sul cansa. Perciò è costituita, guardate, perciò è costituita. Il nostro canale, perciò è costituita. Perciò è costituita. Grazie. Mentre la seconda, classificata. Mentre la seconda, classificata, la giovanissima Pelle Stradio in Tavola. In taglio! In taglio! In taglio! In taglio! In taglio! Allora, seconda classificata. Seconda classificata di ora partendo su Gesso, grande. e vince la categoria Leone, e questa prima, Marsini e Laura, vince la categoria, la piccolissima grande, Giana, Marsini e Laura, se avete bisogno di confrontare i tempi, se lo diamo qua davanti non nascondiamo niente, visto che bisogna di confrontare i tempi, io in primis le ringrazio la famiglia, Gigi, Federica e Roberto, la signora della cucina, la patrizia, il signoritale e il cameriere, Marsela che la famiglia ha il bambino del consolo, Lorenzo, il nostro che non è detto che si addormenta, uno giudice, Claudio Dicani, la taborence, la querza, 4 e 9 Siamo qui, e poi io vedo una porta a casa attiva, con la scatola linda dagli occhi blu, e quindi, se ne vediamo la prossima, io se ne voglio dire qualcosa, vedo io che lascio la parola alla parola di casa, grazie per ciò!